Buonasera a tutti e benvenuti. Vediamo un po' se ci piacciono le sardine, ovvero quel gruppo anche numeroso di persone che in questi giorni animano le piazze di varie città con idee varie per quello che è la situazione italiana, politica prevalentemente, almeno questo è quello che posso aver capito. Le sardine non sono nulla di nuovo se andiamo un attimo a vedere quello che sta succedendo anche in tempi recenti in tutti gli stati dove ci sono problematiche, chiamiamole di ordine politico, Algeria, Sudan, Iraq, Cile, Catalonia, Francia, masse crescenti di ragazzi, di persone, di individui uniti cercano di scendere in piazza arrabbiati per protestare sicuramente contro le classi politiche, le istituzioni, il loro governo che magari di democratico ha poco e quindi si scende in piazza in piazza per protestare. Le nostre sardine paiono controcorrente nella misura in cui scendono in piazza per protestare non contro il governo, non contro la classe politica, non contro le scelte a volte scellerate che il governo può fare in tanti campi, dalla salute, quindi sanità, infrastruttura, scuole e tutto il resto, ma scendono in piazza per protestare contro l'opposizione. In buona sostanza sono a vedere la televisione, ho il mio governo che evidentemente mi piace, perché evidentemente mi piace, vedo che il mio governo fa tante cose, promuove tante iniziative, è un governo compatto, ma è un governo che parla, che dialoga tra le parti che lo compongono, ma è un governo che non litiga con i propri rappresentanti, altro ma, 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 ma chi guarda questa televisione dice vabbè ma io sono contento di questo governo, per me invece è un bel governo, è un buon governo, sta facendo bene e viva, però guardo in televisione l'opposizione e dico, caspita, l'opposizione non mi piace, l'opposizione che è contro il governo come deve fare l'opposizione non mi piace, l'opposizione che utilizza delle argomentazioni, vedasi per quanto riguarda l'immigrazione, vedasi per quanto riguarda il sovranismo, il populismo, non è che dall'altra parte non vi sia sovranismo, populismo con la componente di governo attuale, però non fa niente, guardo la televisione e dico, ragazzi non mi piace l'opposizione, non voglio vedere in piazza l'opposizione, quando c'è l'opposizione vado anch'io e manifesto non contro le istituzioni, non contro il governo, non contro ciò che in questo momento decide della mia vita democratica, ma contro l'opposizione che fa cosa? Fa l'opposizione, ma ci mancherebbe soltanto che anche l'opposizione scendesse in piazza per che cosa? Contro un'altra opposizione, quindi la guerra tra le opposizioni ma tutti felici per il governo che deve essere tutelato. Può essere stato spiegato in maniera anche banale o forse così, si vuole pensare che si debba dare un'etichettatura, perdonatemi, etichettatura a questa componente di sardine al di là dei pesciolini e si dice, ma no, siete di sinistra, mettete le bandiere, ma no, siete di sinistra estrema, mettete le bandiere della sinistra estrema, ma no, siete di un altro componente, di un altro gruppuscolo comunque sempre di sinistra, fatevi vedere con le bandiere, eh no, non lo fanno perché sono cittadini che hanno capito tutto, che vogliono ribellarsi ed è concesso, che vogliono innescare delle piattaforme, delle tavole, dei ragionamenti, delle discussioni, delle critiche ed è concesso, ma contro l'opposizione. Si vede che questo governo va benissimo, si vede che le sardine sono felicissime, si vede che quello che va male è soltanto l'opposizione di Salvini, demonizzato, non demonizzato, tutto quello che possiamo dire, che deve essere cancellato sostanzialmente come opposizione perché questo governo sta bene e la gente scende in piazza per il governo nel senso che ce l'ha solo ed esclusivamente con l'opposizione. Poi lasciamo perdere la politica, lasciamo perdere tanti che possono dire hanno tot percentuali, andranno al governo, cosa faranno eccetera eccetera, perché poi entriamo nei meandri più bui della politica, insomma della parte meno nobile di quello che è il manifestare in piazza. Segnalo questa piccola incongruenza che io personalmente non capisco, magari soltanto io. Grazie.